eccoci allora dark web è successa una cosa no vabbè lo sapete che come dire è inutile provarci sul dark web beccano e guardate che è successo questo qua allora dove qua slide guarda no dove qua ecco guardatelo è dove questo qua allora questo qui era il fondatore di una si chiamava nsw great in poche parole una una sorta di grande mercato della droga online che dal 2011 sino al 2019 ha spopolato ha fatto diecimila e cinquecento transazioni cioè ha venduto diecimila in cosi di droga ok e vendendo e comprando qualsiasi tocca caino va bene mille robe insomma questo tipo qua l'hanno fortunatamente arrestato si chiama cody world e avrà 14 anni di prigione per quello che ha fatto questa qui è la sua faccia la faccio vedere qua eccola è lui quindi lo beh ma non solo cody world un beccato ma a coinvolto delle amiche queste le amiche giuro è non sono foto prese a caso ve lo giuro una si chiama shanie squilas 24 anni e l'altra patricia quilas 22 in prigione anche loro questa qui era la sua villa a khalila beach in australia e anche quella è stata sequestrata insomma in poche poche parole ragazzi alla fine su dark web si è il segreto è un po nascosto ma alla fine ripescano c'è poco da fare quindi io questo lo dico come sapete ogni puntata c'è una rubrica vi dico questa roba qua è importante da sapere